Oggi voglio andare a parlare delle migliori farm che abbiamo su Avax, nell'ultimo video ho parlato delle migliori farm che abbiamo su Phantom, nel video prima ancora ho parlato un po' delle farm che abbiamo su Aurora, anche se in realtà quel video non era completamente concentrato sulle farm di Aurora ma sulla mia strategia su Aurora. Però voglio fare una serie di video in cui parlerò delle migliori farm sulle varie chain, quindi abbiamo fatto Phantom, ora stiamo facendo Avax, successivamente arriverà One, probabilmente Solana e forse Ethereum, anche se Ethereum non è una cosa che interessa troppo perché costa un bel po'. Quindi andiamo a vedere le migliori farm secondo me su Avax, ce ne possono essere altre, ce ne possono essere di alcune che non mi piacciono, quindi che non ho nominato, però andiamo a vedere quelle che secondo me sono le migliori farm su Avax. Come per Phantom io farmavo su Abracadabra, però esattamente come per Phantom, come vedete ora il ratio è di 12% sulle stablecoin, non mi fa impazzire perché prima era di 30-40, si è arrivati anche a 50% e Spell è un token che io voglio avere, quindi io prima lo farmavo. Adesso che siamo arrivati a 12% massimo 14% ma sta scendendo ogni settimana ho deciso di smettere di farmare su Abracadabra e quindi ho deciso di trovare alternative perché ovviamente se tolgo i soldi di qua li devo mettere a qualche altra parte, quindi ho deciso di trovare altre maniere per farmare con stablecoin. Quindi andiamo a vedere delle farm con stablecoin. Una è molto simile a una che ho presentato su Phantom, quindi è un loop su Banky o su Aave. Funziona, al momento non funziona su Aave, quindi adesso vi faccio vedere, andiamo a aprire Banky. Quindi come funziona il loop? È come se voi mettete in deposito, ad esempio i DAI, quindi mettete in deposito i DAI e ricevete 9% annualmente in 6.88% in DAI, 1.12% annuale in AVAX e 1% in Key Token, quindi ricevete in tutto il 9% da questi 3 token. E se poi mettete in prestito, ad esempio mettete in prestito 10.000 e prendete in prestito 6.000, poi andate a pagare invece il 7% annuale sui DAI, in realtà un pochino di più perché se andiamo a vedere andate a pagare il 10% sui DAI, però guadagnate comunque AVAX e chi prende in prestito. Quindi praticamente voi, se facciamo al netto di tutto, voi andate a depositare DAI, prendere in prestito DAI, depositare di nuovo i DAI che avete preso in prestito, riprendere in prestito altri, ridepositarli e così via, quindi questo è il loop, e andate a guadagnare lentamente dei Key e degli AVAX. Anche qui i rati non sono troppo alti, però a volte vi volevo far vedere questa occasione perché a volte ci sono delle imperfezioni nel mercato e quindi sui money market è possibile fare molto meglio. Quindi ad esempio se andiamo a vedere su Blitz è possibile che al momento si possa fare molto di più. Quindi sì, adesso tipo voi potreste fare che depositate DAI qui, quindi prendete 1.46% annuale in DAI, 4.29% in Blitz Token, quindi nel token della piattaforma, e poi se andate a prendere in prestito pagate 3.95% in DAI, ma venite pagati il 16% annuale in Blitz Token. Quindi è come se voi veniste pagati il 20% annuale in Blitz Token e pagaste 1.5%, in realtà un po' di più, però 1.5% in DAI annualmente. Quindi effettivamente l'APR è tipo praticamente il 20%, guadagnate il 20% annuale su stablecoin, quindi non è una brutta farm. Quindi diciamo su ben chiave non funziona troppo questa roba del loop al momento, però potete trovare vari money market e ad esempio su Blitz funziona, quindi potete farlo qui. Quindi come funziona il loop? Depositate una moneta, la prendete in prestito, la ridepositate, la riprendete in prestito, la ridepositate e la riprendete in prestito, la ripositate e la riprendete in prestito, fin quando non ha più senso farlo. Perché ovviamente poi quando voi prendete in prestito non potete prendere in prestito tutto quello che avete dato. Quindi se voi date 10.000 DAI potete prendere in prestito ad esempio 8.000 DAI. E quindi se voi date gli 8.000 DAI di nuovo potete prendere in prestito 6.000 DAI. E quindi se voi date di nuovo i 6.000 DAI potete prendere in prestito 4.000 DAI. E così via, fin quando poi non ha più senso farlo, arrivate che magari potete prendere in prestito 100 DAI e non ha più senso continuare a fare i loop. Quindi quando fermarvi nel loop sta a voi, diciamo, dipende da quanti ne volete fare. Perché poi per sbrogliarlo dovete farlo anche al contrario, quindi fate attenzione a non farne troppi. Però questo è il loop, diciamo, si può guadagnare abbastanza, non è troppo rischioso se la piattaforma su cui lo fate è abbastanza sicura. Blitz non è sicurissima, però è un fork di ave, diciamo che lo considererei meno sicuro di Geist, ma molto più sicuro di altre piattaforme. Quindi Blitz non è male. Quindi abbiamo visto il loop. Vediamo Platypus. Platypus è la piattaforma di cui ultimamente stanno parlando tutti. Perché ha una technomics davvero, davvero particolare. Allora, come funziona Platypus? È un pochino complesso, se sbaglio qualcosa ditemelo nei commenti. Però praticamente funziona così. Voi dovete fare il deposito di una stable coin, quindi single side. Quindi depositate ad esempio USDT, depositate USDC, depositate DAI, eccetera. Quindi facciamo un esempio con USDT. Come potete vedere, il base IPR è 14%. Quindi, se voi fate il deposito di USDT e avete 0 PTP in stake e 0 VPTP, allora guadagnate il 14% annualmente sui vostri USDT. Pagati in formula, pagati in PTP. Quindi se voi credete che il PTP token possa fare il 100% da ora, allora vuol dire che è come se questo fosse un 28%. Se invece voi credete che sia troppo inflazionario, quindi che scenderà, quindi magari scende il 50%, allora questo è un 7%. Quindi non guardate solo la percentuale. Immaginate quando avrete il token, vi aspettate che sia più alto e quindi questo APR è più alto e vi aspettate che sia più basso, quindi questo APR è più basso. Quindi pensate anche a questo. Quindi abbiamo una base IPR del 14% che vi permette appunto di farmare il 14% sui USDT, che non è male in formula di PTP. E poi c'è la versione lockata, quindi c'è come una curve tokenomics che vi permette di fare stake dei vostri PTP per guadagnare VPTP. Quindi se voi ad esempio fate stake di, andiamo al booster calculator, se voi ad esempio volete, abbiamo detto USDT, mettiamo 10.000 USDT e abbiamo meno dell'1% della pool e mettiamo in stake PTP 10 PTP. Quindi ora come vedete abbiamo ancora il 14% e non abbiamo boostato niente perché abbiamo messo solo 10 PTP che saranno in un momento tipo 100 dollari e li abbiamo messi adesso, quindi non abbiamo guadagnato VPTP. Quindi immaginiamo di tenerli per 10 mesi, adesso in 10 mesi facendo stake di 10 PTP abbiamo guadagnato 1041 VPTP, quindi PTP lockati. Quindi se teniamo questi 10 PTP lockati per 10 mesi, più o meno dovremmo aver guadagnato questa quantità di PTP lockati e con questa quantità di PTP lockati il nostro 14% diventa il 119%. Il punto che dovete capire di questo calcolatore è che è molto finto perché adesso, perché sta calcolando come se voi aveste VPTP, come se voi aveste 1041 VPTP adesso, però tra 10 mesi. Quindi conta la situazione attuale e vi conta come se voi aveste tantissimi VPTP lockati. Il punto è che tra 10 mesi ci saranno tantissime persone che avranno tanti VPTP e quindi questa percentuale sarà diluita. Quindi in realtà quando utilizzate questo calcolatore fate attenzione a questa cosa perché questo 10 mesi vi conta una situazione attuale, quindi vi conta che tutti gli altri non guadagnano VPTP, solo voi li guadagnate. Quindi vi inflaziona tantissimo questo numero. In realtà secondo me dal 14% tra 10 mesi se tenete 10 PTP lockati arrivate, che ne so, al 22, 23, 25%. 119 è un qualcosa di irrealistico perché non solo voi guadagnate questi VPTP ma li guadagnano tutti e quindi tutti vanno a bustare il proprio APR e quindi l'APR di tutti va diluito e quindi diciamo è molto finto questo calcolatore e fate attenzione. Una cosa che succede, la particolarità di PTP è che se voi avete ad esempio messo come nell'esempio prima 10 PTP lockati, li tenete per 10 mesi, andiamo a mettere qua. Quindi avete 10 PTP lockati, li tenete per 10 mesi, quindi avete questo APR bustato, ritorniamo un attimo alla situazione di prima, perfetto, quindi avete questo APR bustato. Se voi fate unstake dei vostri PTP, quindi li togliete per andare a venderli, e questa è la cosa interessante della tokenomics, voi perdete tutti i VPTP, quindi tutti i VPTP che voi avete guadagnato nel tempo in questi 10 mesi, li perdete tutti. E quindi è come se ripartiste da zero, e quindi questo è l'incentivo per le persone a non ritirare i PTP e venderli, perché se stanno farmando con i VPTP, quindi stanno bustando il loro APR con i VPTP, se loro vanno a fare withdraw e vanno a vendere i PTP, vanno a perdere tutto il boost che hanno guadagnato. E quindi se voi avete PTP, vi conviene che ci sia costato a tokenomics, perché le persone sono incentivate a non ritirare e non vendere, se voi fate farm, vi conviene invece che le persone ritirino, perché vanno a perdere la loro share di VPTP, e quindi vanno a rendere meno diluita il reward di PTP, e quindi diciamo, entrambe le cose sono positive dipendentemente da cosa fate. Quindi è una farm interessante, non so ancora se ci voglio entrare totalmente, non so ancora cosa fare, però è una farm interessante che mi sono visto e mi piace. Quindi se volete farla, entrate, avete il base PR che comunque non è male, potete bustarvelo, fate solo attenzione a quel calcolatore. Quindi abbiamo visto Platypus, vediamo Kidao, Kidao l'abbiamo visto pure su Phantom, quindi la farm è praticamente uguale, semplicemente andate su Kidao, Quindi su app.mei.finance, entrate nelle farm, se volete capire che token dovete depositare, basta cliccare su get LP token, mi fa andare su curve, e semplicemente voi potete fare l'approve e lo stake del token. Andrete a guadagnare dei key token, i key token io li vado a dompare regolarmente, perché non li voglio avere, quindi mi piace come farm, perché la percentuale è ok sulle stablecoin, però non voglio avere i key token. Andiamo a vedere un'altra farm non solo per stablecoin, quindi Alpha o Mora, se non sbaglio era stata creata una volta, quindi fate attenzione a questa cosa, però comunque adesso ha di nuovo mezzo billion di TVL, quindi diciamo, non è comunque male. Voi potete fare tipo Tarot per Phantom, quindi voi potete fare yield farming con leverage, quindi voi potete andare in supply, voi potete depositare i token, quindi potete depositare AVAX, potete depositare USDT, potete depositare l'LP di questi due. Potete o potete non fare i borrow, quindi se voi volete semplicemente farmare uno di questi token, andate a depositare uno di questi token, non fate borrow e andate a prendere una percentuale annuale su questi token. Quindi potete fare single stake di USDT, potete farlo di USDC, di nuovo di USDT, quindi potete scegliere voi quale token farmare e le percentuali non sono comunque male, quindi vi consiglio almeno di farvi un giro su Alpha o Mora. Andiamo a vedere delle farm un pochino più degen, quindi andiamo a vedere lo short, che nell'altro video vi ho fatto vedere con Geist, adesso ve lo faccio vedere con AVAX. Quindi attraverso AVAX è possibile shortare delle coin senza leva. Cosa vuol dire? Voi potete depositare ad esempio USDT, quindi guadagnate questi, guadagnate 2.5% annuale in USDT e guadagnate 0.5% annuale in AVAX, e fin qua ok, e questo mi sa che in realtà è il market di Ethereum, un secondo, fatemi andare sul market di AVAX, ok perfetto siamo sul market di AVAX. Vabbè, il concetto è uguale, quindi andiamo a vedere, depositate USDT, quindi guadagnate 1.65% annuale in USDT, 1.76% annuale in AVAX, e ad esempio mettiamo a caso che voi depositate 10.000 USDT, potete prendere in prestito ad esempio 0.1 Bitcoin, 0.15 Bitcoin, che sono tipo 6.000 dollari, un po' di più, e quindi voi prendete in prestito Bitcoin e quindi pagate 0.80% annuale in Bitcoin e venite pagati 0.41% annuale in AVAX, quindi diciamo venite anche pagati per fare questo giro, ma voi appena prendete in prestito i Bitcoin li andate a vendere a mercato, quindi andate su Trader Joe, su SushiSwap, dove volete, e andate a vendere subito i Bitcoin, così andandoli effettivamente a shortare, perché poi per andare a ripagare il debito voi dovrete ricomprarli, e quindi semplicemente state shortando l'asset, perché se quando andate a ricomprarli vale di meno, vuol dire che pagherete meno di quello che avete ricevuto, se vale di più vuol dire che pagherete di più, se vale uguale vuol dire che utilizzerete le stesse monete che avete avuto quando l'avete venduto, e quindi effettivamente andate a shortare una moneta. Fate attenzione quando andate a shortare, perché è una cosa pericolosa, io personalmente non lo faccio, però questa è una maniera di shortare on-chain che non mi dispiace, anche perché venite pagati per farlo, quindi se scegliete le coppie migliori, ad esempio questa di DAI paga più di questa USDT, quindi potete mettere in prestito DAI, prendere Bitcoin e guadagnate ancora di più di yield, quindi venite pagati per shortare qualcosa, non venite pagati molto, però comunque venite pagati per shortare qualcosa. Poi andiamo a vedere altre farm, un po' più di gen, l'edge farming, quindi immaginiamo ad esempio di ritornare su AVE, quindi vediamo una farm che potete utilizzare, utilizziamo ad esempio Alfa o Mora, quindi una cosa che potete fare come edge farming è quella di prendere ad esempio in prestito degli AVAX, quindi prendete in prestito AVAX mettendo in deposito di nuovo DAI, quindi mettete 10.000 DAI in deposito, prendete in prestito AVAX e gli AVAX che prendete in prestito li andate a utilizzare ad esempio su Alfa o Mora, quindi li andate a utilizzare per farmare ad esempio in questa pool di Alfa o Mora. Il punto è che dato che voi gli AVAX li avete presi in prestito e non li state vendendo, vuol dire che se AVAX cambia di prezzo a voi non interessa, perché se AVAX sale di prezzo voi comunque avete la stessa quantità di AVAX che andate a ridare indietro, se AVAX scende di prezzo voi comunque avete la stessa quantità di AVAX che andate a ridare indietro, quindi non vi interessa del cambio di prezzo di AVAX, ma vi interessa perché voi effettivamente andate a guadagnare semplicemente lo yield che c'è in questa farm, quindi se questa farm non scamma, quindi se non vi rubano i soldi, semplicemente voi guadagnate uno yield senza rischi, senza avere preoccupazione che il token possa salire o che possa scendere, perché tanto state utilizzando il token che avete preso in prestito, quindi questo intendo con edge farming, quando vado a fare edge farming su i money market è quello che intendo, prendo un token e utilizzo quel token per farmare, e così è come se lo yield io lo avesse gratis, perché non mi interessa se quel token va su o va giù, perché tanto io l'ho preso in prestito, quindi comunque lo devo ridare indietro e non mi interessa che quel token vada su o vada giù se io non lo vendo. Altra di gem farm è time, molto famosa, non andrò a parlare più di tanto, non mi piace, non mi piacciono gli home fork, mi piacciono quasi tutti i progetti di Daniele Sesta, time non mi fa impazzire, quindi non è una cosa in cui sono mai entrato, non mi fa impazzire home, potrei entrare in home ma in tutti gli home fork, non credo proprio che entrerò mai, quindi ve lo lascio, però diciamo non mi fa impazzire. Vediamo delle farm normali, quindi vediamo delle farm su Joe, quindi queste farm un po' più indietro erano per stable coin, un po' particolari, tipo questa qui dell'edge farming, questa qui del looping, quindi anche Platypus è un po' particolare, quindi ora volevo andarvi a parlare di farm normali, quindi in cui fate un LP token, lo depositate, guadagnate, fine. Quindi come prima farm normale c'è Joe, quindi semplicemente andate su traderjoeyxyz.com, andate su farm, trovate tutte queste farm, hanno degli APR abbastanza decenti, PTP AVAX ha 500% di APR, IME AVAX ha 241, ci sono degli APR molto interessanti su queste monete, quindi potete diciamo svizzarrirvi, potete scegliere le monete che preferite, in base a permanent loss, a quanto credete nelle monete, eccetera, quindi potete scegliere quali farm preferite di qua. Io personalmente non amo questo tipo di farm, in cui voi semplicemente depositate, ricevete il token, mi piacciono strategie un po' meno da ponzi, però diciamo è una strategia molto facile da utilizzare, quindi semplicemente venite qua, comprate i tuoi token, fate la liquidity pool, sempre su, come si chiama, su traderjoey, quindi andate su riserva, fate create pool, andate a selezionare i token, e poi la depositate qui, avete fatto, molto semplice. Nel tasto traderjoey potete fare altre cose, come ad esempio potete fare lo stake di joey, per ricevere xjoey, xjoey è un interest bearing token, cosa vuol dire interest bearing token? Vuol dire che una percentuale, quindi lo 0.05% di fee, che vengono guadagnate dal protocollo, vengono utilizzate per comprare i joey token, che vengono poi distribuiti a chi fa staking di joe, quindi come vedete qua c'è un ratio, quindi c'è un xjoe vale 1.24991 joe, andando avanti, più fee vengono guadagnate dal protocollo, e più questo ratio aumenta, quindi magari un xjoe domani varrà 2 joe, un xjoe domani varrà 2 joe, quindi se voi avete depositato quando il ratio era questo, e ritirate quando il ratio è 1 xjoe uguale 2 joe, avete guadagnato, quindi è semplicemente così che funziona, vedo che me lo chiedete spesso come funzionano gli interest bearing token, quindi è semplicemente così che funziona, molto facile. Potete anche andare a fare l'ending, perché joe oltre ad essere un DEX, oltre a fare yield farm, oltre ad avere l'intrans bearing token, ha anche un money market, quindi potete mettere in deposito determinate monete, e prenderle in prestito. E' interessante solo perché ci sono monete particolari, come ad esempio xjoe, non ci sono, diciamo, non ci sono troppi lati positivi nell'utilizzare joe, rispetto ad altre piattaforme, perché comunque AVE è più sicuro, Blitz ti paga di più, Bankian ti paga di più, quindi joe in realtà come money market non lo utilizzerei. Andiamo avanti, andiamo su Pangolin, che è il secondo DEX, non ha troppe farm interessanti, perché se guardate la percentuale è molto bassa, quindi ad esempio per Wrapped Etilium AVAX ha il 9%, se magari andiamo su joe possiamo vedere quant'è per Wrapped Etilium AVAX, se la trovo, vediamo, Wrapped Etilium AVAX, quindi non c'è, ok perfetto qui, quindi ad esempio su joe che è una piattaforma più sicura, l'APR è anche più alto, quindi diciamo che Pangolin non ha APR particolarmente alti, una cosa molto particolare che ha è il fatto che tu puoi brigiare i jewel e puoi utilizzarli per farmare, quindi puoi fare la pool jewel AVAX, che è la stessa che poi teoricamente puoi fare su DEX, e guadagnare il 56%, poi su DEX in realtà guadagni il 500%, anche se poi una parte di quel 500% è loccata, quindi teoricamente guadagni di più da questa pool, però diciamo questa è una pool interessante, perché è una pool che non c'è da altre parti, guadagni il 56% su jewel AVAX, quindi è una pool che mi sentivo di consigliarvi, perché a me personalmente piace, non ci sono dentro, però a me personalmente piace, quindi se volete utilizzare Pangolin potete andare là. C'è anche Elk, Elk di Elk ne ho parlato l'altra volta, quindi nell'altro video, è un bridge che vi permette di avere il gas dall'altra parte, dalla chain su cui arrivate, quindi quante volte vi capita di fare bridge, ad esempio da Phantom AVAX, però vi ritrovate che avete il token che avete brigiato, però non avete degli AVAX sulla chain, quindi non potete pagare il gas, e quindi vi ritrovate bloccati, perché appunto non avete il gas. Elk vi risolve questo problema, perché oltre a brigiarvi il token, vi dà anche un pochino di gas, che potete utilizzare per fare la prima transazione di swap, per poter appunto avere, per vendere magari il token che avete brigiato, per comprare un po' di gas, e continuare a utilizzare la chain. Quindi è un progetto che mi piace molto, il token non mi fa impazzire, diciamo non è una roba che vorrei per forza soldare, però comunque le percentuali sono abbastanza alte, c'è il 173% su AVAX Elk, il 151% su USDT Elk, diciamo sono un po' di farm, sono con percentuali abbastanza alte, il protocollo mi piace, quindi mi sento di consigliarvelo. Di nuovo, se volete farmare con Jewel, c'è quella su Pangolin, un'altra cosa, su AVAX arriverà Crystal, quindi non dormite su Crystal, che è diciamo il secondo token di The High Kingdom, e fate attenzione a quello, perché se avete Jewel avrete Crystal, quindi se avete Jewel automaticamente, è come se stesse farmando Crystal, diciamo non è una vera farm quella di Jewel, però non vi scordate di The High Kingdom, non vi scordate di Crystal, e magari andremo a parlare più in là delle subnet, che probabilmente verranno utilizzate per avere Crystal Veil, che è l'applicazione su AVAX di The High Kingdom, e probabilmente questo porterà molta Bypressure a Crystal, di nuovo, magari ne parleremo in un altro video, però è molto molto interessante, il movimento di The High Kingdom su AVAX. Come ultima farm andremo a vedere Blitz, Blitz ha una tokenomics molto molto particolare, che è praticamente uguale a quella di Geist, ed è simile ad altri protocolli, Blitz che cos'è? Blitz è un fork di ave, che però ha cambiato un po' le pollici monetarie, quindi effettivamente funziona come ave, anche di frontend, praticamente è uguale ad ave, quindi se vedete cambiano, cambia tipo il font, cambiano un po' i colori, però effettivamente è uguale ad ave. La cosa che cambia sono le pollici monetarie, quindi voi con ave che cosa potete fare? Potete solo votare, quindi ave è un governance token che vi serve solo a votare, invece con Blitz voi potete fare stake, o ancora meglio lock di Blitz, per poter guadagnare una parte delle fee del protocollo, quindi ad esempio se voi fate stake di Blitz, guadagnate il 53.24% annualmente, non solo in Blitz, quindi non è il token nativo Blitz, non è che loro stanno stampando Blitz per darveli, una parte mi sa che lo è, però voi state guadagnando il 53% in base alle fee che ci sono sulla piattaforma, quindi voi guadagnate vari token, non è una cosa inflattiva abbastanza fake, e voi state guadagnando in base a come la piattaforma funziona, quindi se voi fate stake, non dovete lockarli, se voi fate lock, mi pare che voi possiate scegliere per quanto lockarli, però mi sa che dovete farlo tipo fino a 4 anni, qualcosa del genere, quindi non mi ricordo fino a quanto potete lockarli, però se li lockate non li potete più ritirare, però guadagnate il 272% anni al momento, quindi con i volumi che ci sono adesso, con le fee che ci sono adesso, quindi se le fee dovessero diminuire, questo diminuirebbe, se le fee dovessero aumentare, aumenterebbe, però è un modello di ave migliorato, quindi è una cosa che mi piaceva, è una cosa che mi sentivo di consigliare, se vi può piacere una cosa del genere, potete semplicemente venire qua, se non volete bloccare i vostri token, fate lo stake, se li volete bloccare fate il lock, ovviamente la PR è diversa, quindi potete scegliere un po' voi. Quindi questo era un farm su AVAX, per il prossimo video faremo quello di Harmony, il video sarà molto più corto, perché Harmony ha molte meno cose, però comunque per il prossimo faremo Harmony, credo Solana, e poi vedrò cos'altro fare. Vi lascio il link di Discord in descrizione, se avete dubbi potete scrivermi su YouTube o su Discord, rispondo su entrambi.